Incastrati gli amministratori di Aligroup che invece di rispondere al tribunale facevano gli interessi dell'imprenditore Sebastiano Scuto, sequestrati 19 milioni di euro sui conti bancari di 9 amministratori di società coinvolte nella distrazione delle risorse finanziarie di Aligroup S.P.A. A conclusione di lunghe indagini per il reato di bancarotta fraudolenta relativo al crack della società operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Sono 9 gli indagati, 3 amministratori giudiziari di Aligroup e 6 amministratori di fatto e di diritto di altre società collegate. Sebastiano Scuto, amministratore di fatto di Aligroup, Salvatore Michele Scuto, procuratore speciale e liquidatore, Rita Spina, titolare di quote della Fruttexport, Domenico Spina, amministratore unico di Fruttexport, Carmelo Frasca, amministratore unico della Lanificio di Ragusa, Filippo Tomarchio, liquidatore della Deteritalia, nonché Salvatore Muscarà, amministratore della Pubblici Servizi, Carmelo Lazzara e Angelo Giordano, amministratori giudiziari di Aligroup. Molte ombre su fatti contestati che si collocano tra il 2005 e il 2013. Dopo accurate indagini era emerso come la società, seppur gestita formalmente da amministratori giudiziari nominati dal Tribunale, continuava ad operare nell'interesse della famiglia Scuto, avvantaggiando le società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale. Un amministratore che nel 2011 rileva una società già in situazione di difficoltà e non la rileva evidentemente per risanarla, come ci saremmo dovuti aspettare, ma la rileva per depauperarla ancora di più dei beni di cui questa società poteva disporre e soprattutto degli ingenti profitti che avrebbe potuto ricavare erogando un servizio in convenzione con la Regione. La depaupera ha favore ovviamente di altre società del gruppo. Lunghe e laboriose indagini hanno messo in luce delle operazioni commerciali anomale tra Aligroup e le altre società riconducibili a Scuto, fra cui Fruttexport, Global Service, Deteritalia e Cedal.